ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi come vedrete vedete dal mio grembiolina si tratta di una ricetta oggi prepariamo un primo molto particolare e che a miei figli piace tantissimo ci serve la pasta ovviamente fate voi la quantità salsiccia 400 grammi mezza cipolla tagliata come volete io la toglio così una scatola di funghi 50 grammi di formaggio grattugiato due uova e una confezione di panna allora per quanto riguarda la cipolla la salsiccia i funghi dobbiamo andare fuori in cucina ma per adesso uniamo questi due condimenti sarebbe le uova e formaggio e la panna scusate tre condimenti iniziamo adesso questo lo lasciamo da parte e andiamo a cucinare il condimento ciao 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 ciao